Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milani, io sono Stefano Bressi, oggi è mercoledì e siamo ancora nel bel mezzo della sosta per le nazionali, ma come vi dicevo nei giorni scorsi il mercato va avanti, il mercato durante la sosta prende un po' il sopravvento perché comunque i club hanno modo di ragionare anche su altri aspetti che non sono il campo, anche il Milan fa questo, oltre all'attaccante, oltre al difensore di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, oggi arrivano delle notizie importanti per quanto riguarda il centrocampo, perché? Perché queste notizie riguardano soprattutto Rade Krunic, un giocatore che è sempre al centro dei pensieri dei milanisti, diciamo così, molto criticato, molto disprezzato anche dai milanisti, considerato una delle cause di tutti i mali del Milan insieme a Pioli, che in lui vede invece qualcosa che molti non vedono, ma l'addio di Krunic sembra essere ormai davvero prossimo, ed sembra essere veramente scontato, anzi oserei dire quasi, le strade del Milan e di Krunic sono destinate a dividersi, e chissà che questo non possa essere collegato anche alle strade del Milan e di Pioli, che sono destinate probabilmente a dividersi. Prima di continuare lasciate un mi piace a questo video, ora ne parliamo insieme, attivate la campanella, commentate per il mila vostra, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, è importante, fatelo, non vi costa davvero nulla, ci mettete un secondo e sono sicuro che non ve ne pentirete. E vi dicevo, non solo c'è l'addio probabile, molto probabile ormai di Krunic, ma c'è anche il sostituto già individuato dal Milan di Rade Krunic, ma partiamo, andiamo con ordine. Krunic ha un contratto di scadenza con il Milan al 30 giugno del 2025, 30 giugno del 2025 significa non al termine di questa stagione, ma della prossima stagione. Già in estate, come molti si ricorderanno, c'era stato un approccio del Fenerbahce nei confronti di Krunic, non era mai arrivato in realtà un'offerta ufficiale al Milan per il centrocampista bosniaco. Il Fenerbahce però si era interessato, aveva sondato, aveva cercato di capire quali potessero essere le richieste del Milan tramite la gente, il giocatore era ben felice di andare a giocare in Turchia, anche perché il Fenerbahce era pronto a offrire a Krunic un ingaggio molto alto, molto più alto del milione e mezzo che percepisce ora il Milan. Allora il Milan comunque non ha mai aperto più di tanto alla cessione, il Fenerbahce si è tirato indietro appunto senza mai fare realmente una proposta al giocatore, che però a quel punto ha battuto cassa con il Milan e ha detto io sono un titolare del Milan, perché di fatto Krunic da ormai due stagioni è un titolare del Milan, sono un titolare del Milan, avevo la possibilità di andare a guadagnare di più, volete che io rimanga? Benissimo, però adeguatemi lo stipendio, rinnovatemi il contratto. Ecco, questo rinnovo molto probabilmente non ci sarà, non ci sarà per motivi economici e non ci sarà probabilmente neanche per motivi tecnici, perché Krunic è un giocatore che a pioli piace molto, secondo me, se volete anche il mio parere, è fin troppo criticato, sicuramente non ha grandissime qualità, però il suo lo fa sempre, ora probabilmente vive un momento di calo in cui non è neanche al massimo della condizione fisica dopo l'infortunio che ha avuto, però quando è in campo Krunic fa sempre il suo da ordine, recupera palla, la protegge, la smista, quindi non dico, ripeto, che sia, debba essere un titolare del Milan, ecco, però come alternativa a Ben Nasser e anche alle mezzali o come trequartista può fare tanti ruoli e un jolly, uno da tenere in squadra, secondo me, può andar bene. Però, ripeto, la situazione è questa, ovvero che il rinnovo non dovrebbe arrivare, perché il Milan comunque, viste le tante critiche, anche vista questa stagione non troppo positiva, di Krunic ha deciso di lasciarlo andare al termine della stagione e il Fenerbace si sta facendo molto sotto con lui. E attenzione perché potrebbe succedere qualcosa già nel mercato di gennaio, perché il Fenerbace continua a pressare per Krunic, Krunic continua a pressare per il rinnovo o per l'addio. Il rinnovo non arriverà, come vi dicevo, anche per motivi economici, perché il Milan non offre più di 2 milioni, 2 milioni e mezzo tra parte fissa e bonus, mentre il giocatore ne chiede 3, 3 e mezzo, quindi c'è anche una distanza, una forbice abbastanza ampia tra le due parti. E quindi l'addio diventa la soluzione più probabile, perché comunque con un contratto e scadenza tra un anno e mezzo perderlo a un anno dalla scadenza significa guadagnarci veramente pochi milioni di euro, perché già il valore di Krunic non è che sia altissimo. In più a un anno dalla scadenza, un giocatore comunque di 30 anni, diventerebbero una serie di fattori che porterebbero il Milan probabilmente a lasciarlo andare veramente quasi gratis. Invece scederlo a gennaio potrebbe portare nelle casse del Milan un tesoretto. In estate il Milan chiedeva 15 milioni o anche qualcosina in più e il Fenerbahce non si è mai neanche avvicinato. Ora la richiesta potrebbe scendere intorno ai 10 milioni e allora il Fenerbahce potrebbe effettivamente provare un nuovo assalto, tornare alla carica, tornare a provarci concretamente questa volta per Krunic. E il Milan? Con chi gioca a centrocampo se Krunic va via? Perché è vero che tornerà a Ben Nasser, ma prima bisogna vedere come tornerà, secondo bisogna capire che comunque ci servono delle alternative. È vero che finora ci sono stati Krunic e Adli, poi ci sarebbero Ben Nasser e Adli. Però servirà un altro giocatore. I nomi sono vari, ce ne sono tanti. Difficilmente, allora ripeto che comunque l'ipotesi di un addio a gennaio di Krunic è appunto un'ipotesi, non c'è nulla di concreto, di definitivo. Però qualora dovesse succedere il Milan avrebbe due possibilità. La prima è quella di fidarsi di Ben Nasser e andare a prendere un profilo giovane, un giocatore a poco prezzo, di grande prospettiva, però uno di quei talenti un po' sconosciuti che il Milan vuole coltivare, vuole andare a prendere in queste situazioni. L'altra è quella di andare a prendere un giocatore un po' più affermato, ma che comunque non sarebbe un top, perché il budget a disposizione a gennaio è quello, potrebbe arrivare un prestito, potrebbe arrivare insomma un'alternativa, però nulla di che. Quindi tra un'alternativa che magari è un po' più pronta, ma che comunque non è nulla di che, e un'alternativa giovane da formare, che può diventare qualcosa di importante, che magari anche nell'immediato può dare il proprio contributo, la sensazione che ho io è che il Milan possa scegliere, propendere più per la prima soluzione, fidandosi di Ben Nasser, avendo come alternativa di lì e in aggiunta questo giovane talento. E uno di questi potrebbe essere, l'ha riportato Gianluca Di Marzio proprio poco fa, oggi pomeriggio, si chiama Gabriel Moscardo, è brasiliano e gioca nel Corinthians ed è un classe 2005, quindi ha 18 anni, e alla prima vera stagione, di fatto tra i grandi, perché finora ha giocato nelle giovanili del Corinthians, il Milan che quindi tornerebbe a pescare dal Brasile, come succedeva una volta quando il Milan aveva, arrivavano i talenti, quelli veri brasiliani, però è un mediano ecco, quindi non aspettiamoci Ronaldinho, Pato, Cacà o giocatori comunque di chissà quale piede, è un mediano che comunque non ha anche dei buoni piedi, è a 16 presenze nella Serie A brasiliana con 5 ammunizioni, quindi un bel cagnaccio, tra virgolette, è uno di quelli che si fa sentire, ecco, però è anche uno smistatore di palloni, è un giocatore, ripeto, io non è che lo conosca più di tanto, mi sono informato, ho guardato qualcosina, ho letto qualcosina, quindi si diceva questo, un buon mediano che può fare però anche eventualmente il trequartista o il centrocampista centrale in un centrocampo a due, quindi comunque è un giocatore che ricalca un pochino le posizioni che può ricoprire anche Radegroni. Quindi può essere una soluzione alternativa a Krunic molto valida, bisogna capire cosa succederà, il prezzo è alla portata ovviamente perché è un ragazzino e quindi molto giovane e quindi è ancora un po' sconosciuto, il trasfermato ha una valutazione di un milione e mezzo, però probabilmente è un po' troppo basso un milione e mezzo, il Corinthians vorrà guadagnarci qualcosina da lui considerando anche che è nel mirino comunque di diversi top club, vedremo se potrebbe essere lui, fatemi sapere se lo conoscete, cosa ne pensate, se vi piacerebbe, se siete felici dell'addio eventuale, è probabile comunque o gennaio o in estate, comunque molto probabile, di Krunic, se vi siete liberati anche di un altro capro espiatorio, ma diciamo lasciamo perdere, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella se volete anche ricevere le notifiche, come vi dicevo prima commentate per dirmi la vostra su questo e su tanto altro, e seguitici su pianetamilam.it e su tutti i nostri profili social. Un saluto da parte di Stefano Bressi e appuntamento al prossimo video.